Il webinar organizzato nell'ambito del ciclo dati aperti e dati territoriali, pratiche diffuse di interoperabilità e nuovi scenari alla luce della nuova direttiva europea Open Data. Aspettiamo qualche secondo ancora che tutti quanti riescano a collegarsi per iniziare rapidamente il webinar. Come vi dicevo, cogliamo l'occasione della chiusura dell'anno per fare un po' una sintesi, un bilancio di quanto è stato dei risultati ottenuti durante il 2021 su dati aperti e dati territoriali. Questo incontro vuole essere proprio una tappa durante il percorso di aggiornamento, valutazione, monitoraggio dei dati aperti in Italia ed in Europa e cogliamo proprio l'occasione di questo inizio d'anno e del riavvio dei webinar di questo ciclo, proprio per fare un po' il punto della situazione, andando ad identificare, a valutare le analisi dei report italiani ed europei realizzati sullo stato d'avanzamento e sul grado di maturità delle politiche e delle iniziative Open Data. Non solo in Italia, ma poi daremo anche uno sguardo alle iniziative europee su questo, proprio andando a vedere l'impatto, le polisi e le indicazioni. Come vi dicevo, questo webinar fa parte del ciclo dati aperti e dati territoriali alla luce della nuova direttiva europea. Ne abbiamo già realizzati due, questo è il terzo del ciclo e il 27 gennaio ci concentreremo in particolare sulle infrastrutture territoriali regionali, appunto andando a fare un focus sullo stato dell'arte e sulle prospettive future. Vi ricordo che potete porre delle domande ai relatori e sugli interventi e su indicazioni utili. Noi cercheremo di raccoglierle durante il webinar e sperando di ricavarci un 5-10 minuti vorremmo poi discuterne insieme alla fine del webinar. Ricordo inoltre che tutte le presentazioni e il video saranno poi pubblicate nel primo pomeriggio direttamente sulla pagina eventi PA del webinar. Che altro? Passo la parola a Gabriele Ciasullo che ci introduce un po' l'argomento dandoci un po' dal suo punto di vista dalla prospettiva dell'Agenzia sul livello di maturità raggiunto in questo 2021 e appunto essendoci poco tempo cerchiamo di rimanere tutti quanti entro i 20 minuti dedicati ad ogni singolo intervento proprio per avere la possibilità poi di confrontarci su eventuali stimoli e sollecitazioni che possono arrivarci dai partecipanti. Allora per il momento io mi fermo qui questo è il programma come vi dicevo quindi affrontiamo un po' la strategia europea lo stato dell'arte secondo il Location Interability Framework Observatory e poi faremo una valutazione del monitoraggio INSPIRE quindi sui dati territoriali e in ultimo faremo un focus sui risultati raggiunti nel 2021 dal piano triennale attraverso il monitoraggio che abbiamo realizzato internamente. Grazie, grazie Ugo. Non perdo altro tempo, Gabriele a te la parola per l'introduzione. Grazie Ugo, grazie a tutti per la partecipazione molto velocemente. Grazie a te. Oggi è un webinar che abbiamo voluto dedicare a fare un po' diciamo una rivisitazione degli obiettivi raggiunti insomma delle attività svolte attraverso i risultati attraverso i risultati che emergono da monitoraggi europei e nazionali che ci misurano appunto le attività sempre naturalmente con riferimento alle tematiche sui dati in particolare per quanto riguarda appunto gli open data e i dati territoriali come in effetti il ciclo di questa serie di il titolo di questo ciclo di webinar. Si parte con e qua approfittiamo della presenza di Daniele Rizzi che ringrazio fin d'ora per la sua partecipazione e dove oltre a darci la visione dell'open data Maturi di Report 2021 pubblicato lo scorso mese di dicembre ci introduce anche insomma le tematiche insomma di rilievo sulla strategia europea dei dati insomma che in effetti insomma ci sono molte novità che in qualche modo come dire, fioriscono in Europa in quest'ultimo periodo. Poi ci sarà appunto lo spazio per il Location Interoperability Framework Observatory un'attività che è molto simile all'open data Maturi di Report che viene svolta anche questo a livello europeo per andare a capire l'aderenza delle azioni svolte nei vari paesi europei e quindi rispetto a un documento il blueprint prodotto in Europa nell'ambito delle azioni prima si chiamava EUF adesso si chiama ELISE comunque azioni che in qualche modo sono state messe a punto nel contesto del work program di AISA prima e AISA Square poi successivamente. Qui ce ne parlerà Massimo Petroli di questo particolare progetto seguito da GRC dal centro di ricerca della Commissione Europea. Poi ci saranno le attività vedremo un po' da vicino gli esiti del monitoraggio INSPIRE rispetto anche questo è un monitoraggio europeo di rilievo rispetto ai tematismi che in qualche modo la direttiva INSPIRE ha posto per i paesi membri le attività in qualche modo svolte per implementare ciò che la direttiva prevedeva anche in questo caso ci sarà un intervento specifico di Carlo Cipolloni che ringrazio anche lui e anche qua ci sarà una verifica sulla bontà delle nostre azioni che sono state effettuate nel corso dell'anno in particolare chiaramente teniamo conto che questo è un aspetto molto importante visto che il monitoraggio INSPIRE non viene effettuato sostanzialmente catturando i dati presenti nel repertorio catturando i dati presenti nel catalogo nazionale quindi è un'attività prettamente diciamo automatizzata che non lascia spazio a possibili diciamo di variazioni da parte dei paesi membri sostanzialmente questo consente di poter dire che la bontà della nostra azione diciamo avviata già da qualche anno a questa parte di sottolineare l'importanza di documentare i propri dati nel catalogo nazionale ciò consente appunto di essere monitorati a livello INSPIRE e ciò consente di dire che in effetti i dati che non sono documentati adeguatamente nel repertorio chiaramente non vengono presi in considerazione durante questo processo di monitoraggio l'ultimo aspetto è un monitoraggio nazionale che riguarda appunto il piano triennale dove qua insomma diciamo ci sono alcuni obiettivi e risultati attesi previsti per quanto riguarda appunto sempre il tema dei dati con delle azioni che sono state già avviate da Agit già da un po' di tempo e che in questo ultimo periodo stanno diciamo stiamo mettendo a frutto queste azioni avviate già più o meno dal mese di febbraio marzo da quando abbiamo potuto mettere in piedi la nuova versione del catalogo datico LIT e con l'aiuto dei colleghi che stanno operando in questo periodo e qua sentiremo direttamente Piero Paolicelli su questo aspetto stiamo andando a monitorare costantemente la qualità delle informazioni che vengono disponibili attraverso il catalogo nazionale per migliorare e per andare verso l'incontro agli obiettivi e risultati previsti nel contesto del piano triennale io avrei concluderei qui questa piccola presentazione e chiedo poi il cambio per introdurre Daniele Rizzi sul prossimo intervento grazie grazie Gabriele io faccio semplicemente da passaparola grazie Gabriele a te Daniele che ci racconti un po' la strategia europea e ci fai un po' una sintesi delle iniziative a livello appunto europeo grazie a te la parola grazie grazie per l'introduzione buongiorno a tutti sono Daniele Rizzi lavoro alla commissione europea da parecchi anni ormai in particolare in questi ultimi anni sto lavorando alla direzione generale che si occupa di tecnologia dell'informazione DigiConnect e la mia unità in particolare è quella che per esempio è stata dietro la principale autrice della comunicazione sulle strategie dei dati che abbiamo pubblicato nel 2020 e che è in qualche modo la base di tutte le strategie di implementazione che stiamo in qualche modo mettendo in opera in questi giorni e in questi anni quindi volevo fare una prima introduzione su questo quindi dare un po' il contesto generale perché lavoreremo sui dati e quali sono le prospettive dal nostro punto di vista per sviluppare un mercato dei dati il più possibile efficace e funzionante e poi in una seconda parte parlerò un po' del nostro monitoraggio dell'open data nei paesi europei facciamo ogni anno questo rapporto in cui analizziamo la situazione degli open data nel settore pubblico e facciamo non un confronto ma una valutazione a livello europeo e devo anche dirmi scuso per il fin italiano perché prima di tutto i miei design sono in inglese sono e normalmente penso di parlare un italiano decente a casa ma in ambito professionale normalmente ci esprimiamo sempre in inglese quindi ci saranno ci sarà qualche termine che probabilmente suona un po' bizzarro alle orecchie di un italiano vero ma devo fare del mio meglio per cercare di fare la mia presentazione in modo decente quindi passiamo alla sostanza innanzitutto allora la strategia europea dei dati è basata su quattro pilastri diciamo vi dire che i dati devono essere poter essere scambiati in modo naturale ed efficiente senza barriera esattamente come in qualche modo abbiamo cercato di fare negli anni nello sviluppare un mercato comune del mercato comune degli oggetti fisici diciamo è importante che questi dati messi a disposizione non solo possano circolare liberamente ma siano anche di buona qualità occorre ovviamente che i principi europei come la protezione dei dati personali siano completamente rispettati e occorre anche che ci sia chiarezza per quanto riguarda sia coloro che mettono a disposizione i loro dati chiarezza su come questi dati verranno riutilizzati e chiarezza per gli utenti che vogliono riutilizzare i dati sapere esattamente come questi dati possono essere riutilizzati o no allora per fare questo questa strategia si basa su strumenti legali quindi direttive o regolamenti e poi su programmi di intervento che finanziano attività quindi innanzitutto per quanto riguarda gli strumenti legali abbiamo ovviamente la direttiva sui dati del settore pubblico che è stata adottata nel 2019 dovrebbe essere stata convertita in legislazione nazionale a partire da giugno-luglio 2021 non tutti i paesi ci sono ancora ma credo che tutti siano comunque su una buona strada e derivata da questa direttiva sapete sicuramente che c'è un regolamento che stiamo preparando ormai purtroppo da parecchi mesi ma che non ancora è arrivato a buon fine che definisce una serie di dati che chiamiamo high value data sets quindi dati specifici che sono già coperti dalla direttiva open data ma che devono essere messi a disposizione con alcune caratteristiche supplementari in particolare attraverso delle API questo è uno di questi atti legali su cui stiamo lavorando altre cose che dettaglio brevemente nelle prossime slide sono due strumenti legislativi che vogliono che hanno come 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 finalità quella di facilitare in un modo o nell'altro questo scambio di dati a livello europeo e è importante credo sottolineare che in qualche modo abbiamo fatto un passo avanti rispetto agli obiettivi che abbiamo da parecchi anni quindi di cominciare a facilitare e a regolamentare il mercato dei dati provenienti dal settore pubblico la strategia adesso si occupa di dati in generale quindi l'idea di creare questo mercato unico dei dati i dati sono dati che vengono dal settore pubblico ma anche dal settore privato quindi andiamo un po' al di là della problematica open data anche se questo è evidentemente uno dei pilastri fondamentali della strategia ma è importante tenere conto che l'idea in questo momento è che il mercato dei dati deve essere composto da dati del settore pubblico e del settore privato quindi che implica anche dati che sono open data ma anche dati che sono solo accessibili a pagamento il primo dei due strumenti che ho menzionato si chiama Data Governance Act non ricordo esattamente come è stato chiamato in italiano la proposta della commissione è stata adottata già più o meno un anno fa ed è più o meno in fase di adozione nel processo legislativo in cui in questo momento il Parlamento e il Consiglio devono finalmente approvare la proposta della commissione che è più o meno passerà come è stata pubblicata più o meno un anno fa voglio solo sottolineare un aspetto dei molteplici che sono coperti da questo futuro regolamento il fatto che c'è un capitolo che in qualche modo riguarda i dati che non sono coperti dalla direttiva open data perché per esempio hanno problemi di contenuti di diciamo informazione personale o sicurezza o altre cose ma che nonostante questo gli enti pubblici che sono proprietari di questi dati vorrebbero poterli mettere a disposizione a un'udienza o a un certo settore più limitato di possibili utilizzatori per esempio diciamo l'ISTAT quindi un ufficio statistico nazionale sappiamo che mette a disposizione liberamente indicatori accessibili a tutti ma ci sono alcuni altri indicatori magari più dettagliati che non possono essere distribuiti perché contengono informazioni parzialmente personali o diciamo sensibili dal punto di vista commerciale questi dati però a volte sono messi a disposizione a utenti particolari sotto certe specifiche condizioni per esempio per la ricerca sotto condizioni ovviamente questi dati non vengono distribuiti allora questa diciamo questa sezione di questo nuovo regolamento cerca in qualche modo di mettere a punto di omogeneizzare un po' il comportamento in questo tipo di situazioni sempre in quest'ottica di cercare di favorire il più possibile la riutilizzazione dei dati anche nel caso in cui non tutti gli utenti sono potenzialmente utenti che hanno diritto ad accedere a questi dati ma alcune sotto insieme potrebbero allora la prossima slide questa è una seconda componente di questi regolamenti europei che non vado a dettagliare questa è ancora in fase veramente di sviluppo e l'idea è di creare essenzialmente di nuovo diciamo di dare più potere a quelli che posseggono i dati e vogliono mettere a disposizione una cosa per esempio pensiamo ai dati personali i miei dati sulla mia salute quelli che il mio ospedale o il mio medico curante possiede potrei essere per esempio favorevole a condividere questi dati con altri ospedali ma non con una società farmaceutica che potrebbe sviluppare cose che sono finalmente a beneficio dei suoi interessi personali e non degli interessi collettivi comunque in generale cercare in qualche modo di omogeneizzare di nuovo il fatto che alcuni dati posseduti da alcune entità private o anche personali come individui potrebbero essere distribuiti a categorie specifiche ma non a tutti quindi stiamo pensando di fare un po' d'ordine anche qua per cercare di avere un mercato comune europeo in cui queste regole sono più o meno condivise tra tutti i paesi membri questo lo ho già accennato e quindi questo regolamento che stiamo preparando che deriva dalla direttiva open data che definirà un certo numero di data set specifici per i quali ci sono alcune condizioni che vanno ancora al di là di quelle che sono applicabili alla direttiva open data in generale quindi dati che devono essere messi a disposizione completamente non a pagamento in formato ovviamente machine readable ma questo parlando di data set è normale e soprattutto attraverso API passiamo alla parte implementazione adesso quindi questi sono gli aspetti più legislativi tutto questo ovviamente necessita un certo numero di investimenti per poter essere messi in atto nei prossimi anni e quindi come sapete ci sono programmi di intervento che finanziano attività nel caso specifico dei dati lo strumento principale è quello che si chiama Digital Euro Program è stato adottato alla fine dell'anno scorso almeno il programma di lavoro per il 2021 2022 è stato adottato l'anno scorso il programma in generale che copre 2021 fino al 2027 è stato adottato tempo fa quindi dai diciamo il quadro generale quindi in generale l'idea come abbiamo cercato di rappresentare in questa slide è cercare di avere una visione globale quindi di includere tutti i componenti che possono permettere di avere un mercato dei dati e un trattamento dei dati più efficiente possibile quindi con tre componenti che sono essenzialmente la parte più infrastrutturale il cloud il high performance computer tutto quello che serve per macinare dati le tecnologie e gli algoritmi che servono per utilizzare i dati quindi l'intelligenza artificiale tutto quello che serve per estrarre informazione dai dati grezzi e i dati stessi con alcune componenti ovviamente importanti e trasversali come la cyber security e gli skill perché anche questo ovviamente sappiamo tutti che le competenze mancano la tecnologia si sviluppa in modo talmente rapido che è difficile stare dietro in termini di formazione e quindi ci sono anche attività che cercano di in qualche modo di supportare lo sviluppo di nuovi skill quindi questo è il programma il programma in generale è il programma Digital Europe allora in particolare scendendo un po' più più a livello di dati l'idea generale che ho cercato in qualche modo di spiegare è che quello che vogliamo fare per il data sharing quindi per la condivisione di dati è passare da una situazione più o meno quella attuale in cui ci sono accordi bilaterali tra chi possiede dati e chi li vuole riutilizzare a una situazione in cui abbiamo una visione un po' globale un mercato dei dati in cui questi dati sono visibili sono accessibili a chi vuole accedere a chi può accedere e a chi eventualmente paga per accedere se è necessario pagare e dove questi dati sono anche interscambrabili facilmente perché sono interoperabili utilizzano standard comuni e tutto quello che sappiamo che per esempio è stato già in qualche modo implementato con la direttiva Inspire per i dati geografici quindi crea un ecosistema in cui questi dati sono presenti e possono essere scambiati facilmente secondo le condizioni che chi possiede i dati ha definito e quindi per fare questo abbiamo creato abbiamo in qualche modo inventato e proposto questo concetto di Data Space cos'è un Data Space? allora non è un Data Lake un Data Lake o non so come se esiste l'equivalente in italiano è essenzialmente un Data Base un insieme di dati che sono anche memorizzati nello stesso nello stesso diciamo nella stessa infrastruttura che appartengono a una certa diciamo sotto insieme globale hanno la stessa struttura eccetera eccetera quindi questa è una visione un po' fisica e non necessaria e non è quella che vogliamo veramente implementare per quello che chiamiamo Data Space i Data Space restando in questa metafora sono più come dei mercati quindi non sono dei posti chiusi in cui un lago ha un certo numero di pesci e si possono solo trovare tra oltre o alcune cose è un mercato quindi esattamente di nuovo con questa con questa analogia abbiamo creato un mercato il mercato unico per gli oggetti fisici vogliamo creare un mercato unico per i dati allora ovviamente l'idea finale è di avere un mercato unico unico quindi in cui tutti i tipi di dati provenienti da tutti i domini diversi fanno parte ma ovviamente questo non è possibile da subito quindi l'idea è di cominciare a creare diciamo sotto insieme di questo Data Space globale ovviamente ognuno specializzati in un certo in un certo tipo in una certa tipologia di dati quindi in questo potete vedere qua per esempio anche nella nella prossima slide i dati ambientali i dati sulla mobilità gli skill i dati sulla sanità le smart communities le smart cities l'agricoltura eccetera eccetera quindi questi sono tutti Data Space che verranno che sono già 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 da qualche mese abbiamo fatto la prima call finanziati dal Digital Europe Program e quindi l'idea di cominciare a sviluppare questi dati ovviamente in parallelo questi sono qui abbiamo qua i Data Space diciamo specializzati il contributo dei dati arriva ovviamente dai high value data sets che sono più o meno orizzontali perché hanno più di una categoria di dati e ovviamente al di sotto di questo c'è un'infrastruttura tecnica che è composta dalla cloud e dagli high performance computer e per terminare un po' questo concetto di Data Space ovviamente di nuovo anche ciascuno di questi singoli Data Space specializzati nella loro diciamo specializzazione di dati diciamo ambiente o salute eccetera avranno uno sviluppo graduale quindi non pensiamo di sviluppare da subito l'idea finale l'idea è di cominciare a vedere quello che succede quindi mettere insieme dei network in cui tutti coloro che si occupano o come utilizzatori o come fornitori di dati mettiamo sull'ambiente cominciano a lavorare assieme cominciano a parte quindi a parte questa fase dopo questa fase iniziale c'era una fase in cui cominciamo a costruire un embrione di Data Space e poi questo Data Space comincia a svilupparsi e comincia a parlare con altri Data Space perché l'idea finale è che questi dati non solo devono essere scambiabili all'interno di uno specifico settore ma devono essere scambiabili all'interno attraverso tutti i settori ok passiamo brevemente perché vedo che il tempo scorre veloce ok questo giusto per ricordare che ovviamente Digital Europe non è l'unico programma c'è anche il Recovery Fund tutti gli altri strumenti che sono i fondi strutturali i fondi regionali tutti strumenti che possono tutti contribuire all'implementazione di questa visione di mercato comune dei dati esistono già alcune cose sviluppate da qualche anno c'è un support center for data sharing che abbiamo sviluppato dal 2018 che già mette a disposizione alcuni documenti e un po' di formazione sul data sharing abbiamo questo lo conoscete tutti ovviamente i portali i geoportali il portale europeo dei dati e i geoportali ma come ultima come ultima spero utile informazione cosa facciamo per fare questo monitoraggio della performance degli open dati in Europa qualche cosa che facciamo dal 2015 e allora diciamo che l'idea non è evidentemente di controllare o di giudicare o di classificare come i paesi membri in Europa si comportano bene o meno bene diciamo ha due finalità per noi essenzialmente importanti una è quella di cercare di capire come quello che a livello europeo si fa in termini di legislazione o di supporto con i programmi di intervento come se c'è un'influenza positiva sull'avanzamento e sul miglioramento del mercato e della disponibilità dei dati in questo caso degli open data è anche un modo pensiamo per i paesi membri di confrontarsi e di vedere chi fa meglio e perché fa meglio e non ci sono paesi che fanno meglio in tutte in tutte e quattro le dimensioni ci sono paesi che sono migliori in alcune dimensioni e paesi che sono migliori in altre dimensioni quindi la valutazione annuale è basata su quattro componenti le politiche dei dati dei dati aperti l'esistenza e la qualità di un portale di dati l'impatto che questi dati ci hanno e la qualità dei dati finisco in un minuto vedo che il mio tempo è scaduto questi sono i risultati a livello europeo quindi sono decisamente buoni rispetto all'anno scorso c'è stato un live miglioramento ma credo più importante innanzitutto vedere come negli anni la valutazione si è sviluppata potete vedere anche che c'è una certa diversità tra il 2017 e il 2018 nel 2017 ci siamo resi conto che tutti i paesi cominciavano a essere praticamente a raggiungere il top e essere giudicati estremamente bene quindi abbiamo pensato che era necessario aggiungere ai due parametri iniziali che erano politiche dei dati e esistenza di un portale due nuove componenti che sono l'impatto e la qualità più difficile ovviamente da misurare ma anche importanti nel momento in cui diciamo gli strumenti di base una politica dei dati aperta e un portale esiste ed è funzionante a quel punto quello che è importante è vedere qual è la qualità dei dati di questi portali e qual è l'impatto che questi sforzi ha risparcato dei dati l'Italia si comporta bene quindi questi sono i risultati del 2021 e come vedete il risultato è che l'Italia ha il 92% rispetto al 100% che sarebbe il massimo possibile e si classifica all'ottavo posto nella classifica dei paesi europei qui abbiamo cercato di fare una specie di abbiamo riunito i paesi in quattro categorie i threat set i fast track quelli che seguono un po' e quindi quelli che sono un po' indietro l'Italia è tra il primo paese dei fast track questa divisione è abbastanza diciamo discutibile quindi potremmo anche averla fatto in modo diverso comunque la posizione è veramente buona quindi questa è una cosa positiva e finalmente queste due ultime slide per far vedere in particolare uno zoom sull'Italia come si comporta allora una cosa estremamente interessante e credo estremamente valutabile è il fatto che per l'Italia è stato giudicato il 100% quindi il massimo possibile sull'impatto che è finalmente la cosa più importante tutto questo lo facciamo perché abbia un impatto finalmente sul mercato dei dati quindi direi che è un risultato estremamente positivo di cui si può essere contenti questa è un'altra visione sulle quattro componenti di questo assessment ok evito queste ultime slide questo era per spiegare poi le vedete nelle slide che dicevete come facciamo questa valutazione annuale c'è un questionario composto di più o meno 130 erotti domande che mandiamo e Gabriele deve essere ringraziato perché è un grosso lavoro per lui e per quelli che collaborano con lui per riempire questi dati e ogni dimensione credo abbiamo dei problemi di linea ogni dimensione io interverrei per come dire rinviare anche eventualmente a un momento successivo vediamo se riusciamo a ripristinare correttamente la connessione con 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 Rizzi e vediamo magari in serie di chiusura del webinar di riprendere di riprendere questi ultimi dati in ogni caso vi ricordo che le presentazioni saranno disponibili e caricate sulla piattaforma ma rinvio evidentemente anche ai documenti cui ha fatto riferimento eh eh Rizzi nel suo intervento quindi eventualmente andare a fare poi una una verifica e un'analisi sul sulla documentazione direttamente europea eh ora passiamo rapidissimamente al a una focus sull'informazione geografica ehm e eh Massimo Pedroli ci racconta i dati e delle indicazioni emerse dalle analisi dell'osservatorio eh l'IFO specificamente appunto incentrato sui dati geografici eh a te Massimo la parola prego venti minuti eh più o meno minuto più o meno grazie mille e buongiorno a tutti spero che mi sentiate bene allora ehm eh oggi vi parlerò di eh l'IFO eh che è un osservatorio ehm sull'interoperabilità eh di dati e soluzioni ehm geospaziali mi scuso anch'io un po' per la traduzione di tanto in tanto dall'inglese all'italiano che potrebbe suonare strana eh comunque dati e soluzioni territoriali diciamo ehm che è partito eh due anni fa ma che è costruito su una blueprint eh che dà un quadro concettuale eh di interoperabilità dei dati e delle soluzioni eh territoriali che è la ULF blueprint eh European Union Location Framework blueprint ehm questo quadro concettuale non ha attualmente forza regolamentare eh però è stato costruito in maniera collaborativa ehm unendo le forze di esperti provenienti dai vari settori rilevanti per l'interoperabilità dei dati e delle soluzioni in ambito ehm territoriale e quindi ha sicuramente un valore di riferimento concettuale ehm come potete vedere da questa slide la blueprint è articolata eh in una serie di focus areas di aree di interesse e formula una serie di raccomandazioni 19 per raggiungere quello che è definito uno stato ideale eh in queste diverse focus areas eh ha una vista anche per ruoli eh che consente a ehm esperti o eh persone interessate che si trovano in vari ambiti della pubblica amministrazione o del settore privato ehm di poter cercare quello che eh gli interessa in funzione del proprio ruolo e della propria organizzazione e ehm fornisce anche una serie di buone pratiche quindi eh riporta dei suggerimenti che possono venire dalle pratiche provenienti da altri paesi monitorati ehm l'ambito monitorato è eh sostanzialmente quello di una serie di paesi dell'Unione Europea e eh di paesi dell'area EFTA eh la blueprint è disponibile pubblicamente online su JoinUp che è la piattaforma collaborativa della commissione e come vi dicevo la blueprint copre eh cinque eh focus areas come potete vedere da questo schema c'è un'area che riguarda l'allineamento eh tra politiche strategie in ambito territoriale eh un'area che riguarda l'integrazione digitale eh tra le varie funzioni e servizi eh del governo eh della pubblica amministrazione in generale la standardizzazione e riuso eh un aspetto importante relativo al ritorno sull'investimento che degli investimenti in interoperabilità eh di eh dati eh soluzioni geospaziali possono dare e un aspetto più eh relativo alla dimensione soft se vogliamo ma comunque importante eh quella di governance eh creazione di partenariati e sviluppo delle competenze eh geospaziali giusto per fare un esempio nella eh policy and strategy alignment nell'ambito politiche strategie ci sono eh in particolare eh degli aspetti monitorati dall'IFO che sono quelli che vedete eh riportati sui bordi eh se esiste una policy un documento regolatorio di riferimento per la gestione dei dati territoriali qual è il grado di allineamento tra eh strategia eh dei dati territoriali e strategia eh digitale più ampia del paese eh quali sono le eh modalità eh attraverso le quali eh i dati vengono resi disponibili come open data quindi le caratteristiche di eh eh proprietà intellettuali di licensing applicate eh quali sono le modalità con le quali viene gestita la riservatezza delle informazioni eh territoriali e eh se la eh le informazioni territoriali vengono utilizzate per ehm definire delle strategie delle leggi basate su evidenze chiare di materia territoriale infine le politiche adottate le regole adottate per l'acquisto dell'approvvigionamento pubblico di dati e servizi territoriali eh quindi tutte quelle che vedete intorno a questo cerchio sono le dimensioni che sono monitorate dall'IFO l'IFO eh quindi è un osservatorio che eh eh monitora il grado di maturità delle pratiche applicate dai paesi partecipanti rispetto alla blueprint ULF ed è eh giunto alla seconda edizione eh una prima è stata condotta nel 2019 la 2020 e eh copre un esteso numero di paesi eh tenendo conto del fatto che la seconda edizione che è un osservatorio eh che non ha carattere di obbligatorietà come per esempio il monitorato Inspire eh è un risultato molto buono ed ha una vista quindi molto ampia e aggiornata della maturità delle pratiche di interoperabilità eh dei dati territoriali ehm ci sono 23 paesi quindi come potete vedere qui e partecipanti tra cui l'Italia che ha partecipato eh in entrambi gli anni e tra l'altro anche in modo molto fattivo contribuendo al disegno eh del osservatorio in maniera molto eh attenta e e che ha consentito anche lo sviluppo e il miglioramento dello strumento nel corso degli anni dei pochi anni di vita ehm i risultati mh do una panoramica una breve panoramica a livello europeo e la maturità eh media riscontrata eh nei paesi partecipanti ha raggiunto un buon livello eh l'indice misurato su una scala da 0 a 1 eh che sintetizza il livello medio di interoperabilità è a 0,55 e per quello che riguarda le diverse aree di interesse eh l'area con il punteggio più alto è quella relativa all'allineamento tra politiche e strategie quindi c'è una dimensione ehm regolatoria che eh molto matura e praticamente tutti i paesi partecipanti eh e quindi questo riflette un'attenzione molto forte data a questo aspetto eh le altre aree sono eh a decrescere immediatamente vicina all'attenzione al ritorno sugli investimenti eh in materia di geospazio di interoperabilità eh geospaziale eh standardizzazione di uso eh integrazione tra digitale tra le varie funzioni di servizi governativi eh quella con il punteggio più basso delle eh focus areas è eh governance partnerships and capabilities di gran lunga è interessante notare che come si diceva anche per eh la maturità in temi di open data non tutti i paesi eh sono hanno lo stesso grado di maturità in tutte le aree ed è interessante notare per esempio che eh l'Italia proprio nell'area di governance partnerships and capabilities eh ottiene dei risultati decisamente superiori alla media vedremo dopo il dettaglio anche qui eh come è ovvio ci sono dei paesi eh più eh progrediti diciamo più avanti in termini di maturità buoni punteggi in quasi tutti i eh le focus areas eh la scala comunque come potete vedere è abbastanza continua l'Italia eh si posiziona eh solo leggermente sotto la media e un altro elemento interessante da notare è che comunque al di là della loro posizione su questa eh graduatoria se vogliamo eh tutti i paesi hanno offerto eh degli esempi di buone pratiche che possono essere eh riprese e che l'osservatorio propone come eh riutilizzabili eh e di valore anche per altri paesi partecipanti eh ora un focus sull'Italia anche con eh una comparazione eh dei dati tra 2019 e 2020 eh si è riscontrato un progresso eh dell'indice medio eh da 047 a 052 quindi un buon risultato eh c'è da notare che eh come vi dicevo l'osservatorio è eh in di recente istituzione e ha anche eh una fase di miglioramento nel 2019 rispetto nel 2020 rispetto al 2019 alcuni indicatori sono stati eh ricalibrati eh i dati non sono al momento pienamente comparabili però il picture l'immagine data eh dall'osservatorio del 2020 è sicuramente eh di buona qualità e riflette lo stato attuale della eh maturità misurata rispetto all'eo footprint eh come vi potete vedere c'è stato un progresso in quasi tutte le focus areas eh il regresso il piccolo regresso in sul return on investment è sicuramente attribuibile al ricalibramento di alcuni indicatori comunque il messaggio chiave qui è eh Italia posizionata bene eh leggermente sotto la media europea comunque ha un buon livello medio complessivo di interoperabilità eh è importante dire eh rispetto agli ambiti coperti da questo eh osservatorio e rispetto ad altri osservatori perché vedo alcuni commenti anche nella chat eh riguardo alle molteplicità di iniziative europee di monitoraggio questo è un osservatorio che riguarda specificamente i dati e le soluzioni territoriali quindi ha questo valore è molto spinto su questa dimensione e dà una eh attenzione particolare a tutte le dimensioni non solo quelle dei dati ma anche a quelle di governance tecnologiche quelle di competenze che favoriscono l'interoperabilità e questo è diciamo un quadro generale che potete vedere qui andando sulle eh sull'Italia approfondendo gli aspetti ehm più eh di forza e di debolazione e le aree di miglioramento eh ne abbiamo riscontrate in tutte le cinque focus area come potete vedere qui eh per la parte regolatoria c'è un alto grado di allineamento nella strategia digitale per la pubblica amministrazione sugli elementi territoriali e il fatto che l'utilizzo di dati e servizi autoritativi ehm quindi provenienti da fonti certificate eh nel servizi pubblici digitali è richiesto da eh una legislazione ad ampio spettro intersettoriale eh un'area di miglioramento è il fatto che eh gli approvvigionamenti pubblici di dati e servizi territoriali eh fanno riferimento solo generale a una serie di standard di ambito territoriale applicabili e questo eh quindi non facilita la standardizzazione eh di dati servizi eh contenuto territoriale acquistati dalle pubbliche amministrazioni in ehm ambito integrazione di servizi e dati ehm territoriali eh c'è da notare tra i punti di forza eh l'approccio collaborativo che è applicato in maniera estesa a tutti i livelli della pubblica amministrazione centrale locale per lo sviluppo di servizi che utilizzano dati territoriali e dall'altro lato nelle aree di miglioramento la modalità di integrazione delle informazioni statistiche e di localizzazione e di produzione di statistiche eh basate sui dati territoriali non è ancora sufficientemente matura eh per quello che riguarda standardizzazione e riuso la qualità dei dati eh territoriali garantita da un approccio che lavora sulla qualità a monte non solo sulla misurazione ex post eh sui punti di miglioramento eh si può notare la mancanza di un approccio comune all'architettura per i dati servizi territoriali e eh una mancanza di un approccio sistematico al monitoraggio di innovazioni eh tecnologiche e funzionali nella materia dell'ambito dei dati territoriali per quello che riguarda un ritorno sull'investimento eh la comunicazione data sui eh sui vantaggi dell'utilizzo dei dati territoriali è molto forte e il monitoraggio di efficacia ed efficienza dei servizi utilizzanti dati territoriali è ancora misurata in maniera parziale eh sulla parte di eh eh governance e eh partner radiati e eh capacità c'è un sistema di eh iniziative organizzate eh in maniera estesa per sensibilizzare sul valore dei dati territoriali e un eh forte coordinamento sulle politiche dei dati territoriali eh dall'altro lato eh i partner variati per finanziare costruire e gestire servizi che utilizzano dati territoriali con altre pubbliche amministrazioni e col settore privato anche con amministrazioni estere non è ancora particolarmente desteso come vi dicevo eh l'Italia ha presentato una serie di buone pratiche non entro nel dettaglio delle buone pratiche le potete trovare sulla presentazione e non sono io la persona più qualificata per parlarne ma vi do degli elementi del motivo per cui queste sono state selezionate come buone pratiche ehm l'aspetto ehm relativo all'integrazione tra politiche eh territoriali e più ampie politiche digitali è evidenziato dal fatto che nel piano tra i nale e le ct ci sono delle azioni molto precise relative alla gestione dei dati territoriali cosa decisamente apprezzabile anche rispetto al panorama europeo ehm l'estensione delle specifiche dei dati INSPIRE per l'uso oltre alla politica ambientale è anche un punto particolarmente interessante in quanto in generale si è riscontrato che eh le specifiche INSPIRE sono utilizzate eh molto spesso chiaramente per i dati eh relativi alla politica ambientale e qualche volta in ambiti ehm cross eh border attraverso di scambi con altri paesi meno nel all'interno dei paesi partecipanti l'Italia è uno dei paesi che applica queste specifiche anche per eh in ambito nazionale ehm le ha anche applicato l'Italia le specifiche eh di che è una specifica per la descrizione di set di dati geospaziali eh sviluppata in ambito europeo anche questo è un punto di forza interessante che abbiamo ritenuto di portare come buona pratica e una caratteristica eh molto forte della pratica italiana è il fatto di aver sviluppato una norma tecnica sviluppata dall'Uni che definisce requisiti relativi all'attività professionale inerenti all'informazione geografica modello veramente unico in Europa che quindi è stato riportato come buona pratica infine eh il progetto Pell eh sviluppato dall'Enea da eh Agid eh collaborazione con le amministrazioni locali fornisce un modello di integrazione dei dati provenienti da varie sorgenti eh relative all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica per eh fornire dati utili per la pianificazione della eh dell'utilizzo dell'energia pubblica e delle sorgenti di luce anche per altri scopi installazioni webcam hotspot hi-fi che è un eh una best practice anche nel progetto e ho terminato grazie mille grazie massimo grazie ricordo prendo spunto dalla tua dai tuoi richiami di questo progetto Pell per ricordare a tutti che ne abbiamo parlato eh al precedente webinar di metà dicembre quindi chi vuole poi riprendere questo questo progetto questa iniziativa l'invito appunto a invito tutti i partecipanti a recuperare le registrazioni e le presentazioni dello scorso webinar sempre rimanendo in ambito Inspire passo la parola a Carlo Cipolloni che appunto ci racconta del monitoraggio che annualmente viene eseguito sui dati geografici proprio in applicazione in attuazione della direttiva sui dati geografici eh territoriali quindi a te Carlo la parola prego venti minuti come gli altri grazie grazie buongiorno a tutti eh innanzitutto diciamo che questa presentazione va in continuità con quanto già fatto nel webinar dello scorso novembre eh sul monitoraggio sulla necessità di migliorare le performance italiane in quello che sono la metadatazione dei servizi dei dati territoriali eh quello che vi presenterò è un po' il quadro ehm preliminare del monitoraggio conclusosi il 15 dicembre dello scorso anno quindi poche settimane fa eh siamo in attesa di eh completamento di verifiche da parte dal commissione che avverrà entro la fine del mese poi a quel punto avremo il dato definitivo ma più o meno non ci aspettiamo grosse variazioni da quello che vi presenterò eh qual è il quadro ehm che si è presentato beh devo dire che ehm a seguito appunto di quel webinar e di una serie di azioni che abbiamo messo in campo con con i colleghi di Agid eh siamo riusciti a migliorare decisamente eh il nostro le nostre performance infatti mentre nel 2020 eh mediamente la nostra performance era ben al di sotto del 10% eh nel monitoraggio 2021 eh mediamente la performance è intorno al 25% quindi la il miglioramento c'è stato c'è ancora un grosso margine eh di miglioramento eh su cui dobbiamo lavorare assolutamente e però insomma già sicuramente dei risultati importanti si sono ottenuti eh questi sono legati a una serie di azioni che abbiamo portato avanti come dicevo prima e che sono state quelle di effettivamente eh mettere a disposizione della commissione quelli che sono i dataset eh territoriali che possono rispondere alle regole in SPAI eh mi mi riferisco al fatto che appunto debbono rispettare una serie di eh requisiti e regolamenti sia nazionali che eh europei e al fatto che devono essere dati che possono essere effettivamente resi condivisibili quindi accessibili tramite i servizi di visualizzazione e download e quando parliamo soprattutto di accessibile eh il concetto è di eh rendere accessibile il download dei servizi download sia come eh predefiniti che come eh specifiche eh richieste eh sul servizio eh detto questo vediamo un attimo nel dettaglio quali sono gli andamenti eh a fronte di una di questa azione abbiamo avuto un forte una forte riduzione del numero di data sette infatti come vedete eh quest'anno il nostro numero di data sette si è attestato a poco meno di 5.000 rispetto ai più 19.000 eh dell'anno scorso eh questo però non ha comportato allo stesso tempo una forte riduzione del numero di servizi questo è importante perché vuol dire che abbiamo eh monitorato e abbiamo messo in in monitoraggio effettivamente quei data sette che sono produttivi che sono qualitativi c'è stato ovviamente una riduzione ma come vedete eh del 27% e quindi non così eh paragonabile a quella che è la riduzione dei data sette eh di contro sono migliorati anche se non particolarmente il numero di data sette prioritari per data sette prioritari non è il il concetto espresso da Daniele Rizzi nella prima presentazione ma bensì quei data sette che rispondono che sono necessari a rispondere alle direttive eh di di reporting ambientale essenzialmente anche se poi eh con con Daniele e con altre parti della commissione come eh stato membro lavoriamo in quello che è nella definizione degli Ike eh value data sette cioè un team eh di confronto specifico anche all'interno di Spire proprio perché mh c'è un interesse particolare una convergenza su questi sette eh come vediamo dove è stata la grossa riduzione la grossa riduzione essenzialmente è stata nei data set ehm di di tipo regionale eh più che quelli nazionali e quindi è qui che sicuramente dovremo anche intervenire cercando di portare eh allo stesso livello alcune amministrazioni regionali o locali che non sono riuscite ad allineare i propri metadati e i propri servizi a quelli che sono eh gli standard mh ovviamente eh cosa ha comportato questo però ha portato un deciso miglioramento della conformità dei nostri metadati infatti i nostri metadati eh per quello che dovrebbe esserci confermato sono eh più del 99% conformi alla direttiva e quindi come vedete è un netto salto di qualità questo ha inciso fortemente su quello che sono gli indicatori del monitoraggio Inspire eh come vedete eh il numero di dataset totali conformi eh si è più che triplicato va bene è passato da un 8% a un 30.4% e questo significa che c'è stato un deciso miglioramento eh dell'accesso e del e della conformità ai dati e in particolare questo si è verificato un po' su tutti e tre gli allegati della direttiva in maniera più consistente sui dati di base quindi l'allegato 1 ma altrettanto eh deciso è l'aumento come vedete eh nell'allegato 2 e 3 dove più o meno c'è si è duplicato eh il valore eh dei dataset conformi e questo anche è un elemento importante vuol dire che anche in questo caso eh le amministrazioni hanno fatto un grosso sforzo per documentare nella maniera corretta eh i loro dataset e renderli ehm più facilmente fruibili eh al più ampio pubblico ehm ancora altro indicatore importante è l'accessibilità eh parliamo di disponibilità di dati eh ovviamente i dati territoriali l'avete visto nella presentazione recentemente sono monitorati anche da un punto di vista di ritorno all'investimento ma eh l'importante è l'accessibilità del dato tra l'altro alcuni o gran parte di questi possono anche essere open data perché ovviamente eh non è escluso che i dati territoriali abbiano anche una licenza open eh come vedete anche in questo caso l'accessibilità eh è migliorata decisamente eh cinque volte superiore in generale eh come contesto generale di accessibilità ai servizi di consultazione e ehm scaricamento eh e in particolare eh il grosso eh input importante che credo sia un grosso eh risultato è l'indice 2.2 che identifica quanti dataset sono accessibili a livello di scaricamento e quindi di download come ripeto può essere eh o ehm sotto determinate condizioni ma in molti casi è aperto e come vedete siamo passati dall'1% a un 13.1% quindi significa decisamente una maggiore disponibilità di dati eh per ehm il il cittadino o per chiunque ne voglia a fuire eh ultimo set di di indicatori che che viene monitorato è quello di conformità dei servizi diciamo che qui forse è dove abbiamo ancora eh come dicevo all'inizio necessità di migliorare necessità di eh incrementare la qualità eh questo perché eh ci sono tutta una serie di regole abbastanza articolate al momento anche lì si sta lavorando a livello di commissione per semplificare alcuni di questi aspetti però come vedete anche se non nella stessa maniera nella stessa incisività di quello che è stato per gli altri indicatori anche in questo caso c'è stato un aumento più o meno progressivo eh di tutti ehm i valori e in particolare nel complesso dei servizi si è raddoppiata o triplicata la percentuale di servizi eh direte conformi ehm ovviamente questo eh è fortemente evidente su quelli di ricerca eh come servizi è un po' meno evidente ma anche se comunque c'è stato su quelli di consultazione e quelli di download detto questo vediamo un po' eh mi ha chiuso poi la parte di presentazione un po' più in dettaglio di che dati parliamo eh quali dati sono questi quattro mila e novecenti rotti eh dataset metadatati beh andando a vedere nel dettaglio mila e duecentotantacinque dataset sono quelli dell'annesso 1 quindi sono i dati di base eh come vedete sono più o meno eh variabili ci sta una forte componente ovviamente di quelli ambientali quindi eh dell'idrografia dei siti protetti ma anche le reti di trasporto e le unità amministrative eh hanno una un'importante presenza eh nei numeri sotto l'occhio identifica quanti di questi sono viewable per la commissione e quanti eh e la freccia quanti sono downloadable scusate eh sicuramente qui c'è una necessità di migliorare quei numeri per farli arrivare più vicini al numero eh di dataset disponibili ma cominciamo comunque a vedere un proliferare di dati disponibili sia in visualizzazione che in download devo dire che in realtà questo come ho detto è il valore riscontrato dalla commissione in alcuni casi eh uno per esempio dei siti protetti eh quel valore di visualizzazione di download in realtà è maggiore cioè eh molti dei metadali di dataset hanno i link di accesso alla per la visualizzazione e il download del dataset ma questi link eh per una serie di complicazioni tecniche che vi dicevo poc'anzi eh non vengono visti dal geoportale eh inspire della commissione e dal monitoraggio eh anche se poi sono esistenti quindi in realtà il numero di dataset disponibile a livello nazionale in realtà è un pochino eh più alto di come viene disegnato in questo senso ancora eh se andiamo sull'annesso 2 cioè sull'allegato 2 eh sicuramente tranne le le ortoimmagini che hanno anche delle difficoltà di tipo tecnico visto che i servizi di download e view poi richiedono anche delle configurazioni un pochino più articolate eh tutti quanti gli altri eh dataset hanno comunque eh un'importante presenza e anche un'importante valore di accessibilità eh e consultazioni in totale in questo gruppo abbiamo 861 dataset eh ultimo gruppo è quello dell'annesso 3 che ho diviso in due slide visto che i temi sono 21 eh come vedete anche qui c'è una variabilità estrema ci sta una grossa presenza dell'uso del territorio perché ci sono tutti anche tutti i piani eh regionali in questo contesto quindi come vedete ci sono oltre mille dataset sull'uso del territorio eh a prescindere la variabilità più o meno eh in molti casi abbiamo anche valori importanti eh di accessibilità e visualizzazione come nel caso delle zone sottoposte a vincoli oppure del eh di dati su sugli edifici sull'inmonitoraggio ambientale quindi è un po' variabile come si può vedere però effettivamente eh incominciamo a trovare dati più o meno in quasi tutti i temi eh previsti da Inspire eh in totale per tutto l'allegato tre sono disponibili tre milano centottantasei dataset mh questo identifica che alcuni dataset se noi facessimo la somma dei tre siamo oltre quattromila alcuni dataset possono ovviamente soddisfare eh più temi Inspire quindi possono essere eh classificati in entrambi i temi eh in generale ultima slide da un punto di vista di 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 distribuzione e allo stesso modo vedete che più o meno anche qui tutti tutti i temi eh sono più o meno rappresentati un grosso eccezione ma nel senso eh un grosso proliferare di eh forse anche per caratteristiche del nostro territorio di dataset sulle zone a rischio naturale sulle regioni marine non a caso siamo una delle country con più costa eh in Europa e siamo una delle country eh con più problemi di sessi biologico quindi fondamentalmente questo è anche manifestato da questo proliferare di dataset in questi due temi eh l'unica nota che andrà un po' rimessa a posto ma su questo ci stiamo lavorando è eh la distribuzione della popolazione e la demografia su cui eh alcuni dati degli stat non figurano non vengono rilevati eh dalla commissione ma su questo come dicevo ci stiamo eh lavorando perché in realtà anche lì i dataset sono disponibili chiunque può scaricarli anche in formato open eh dal listat dal sito dell'istat e altrettanto insomma si faranno anche sui dati di oceanografia che eh al momento insomma qualche problema lo stanno portando ma sicuramente anche lì cercheremo di aumentare la visibilità e l'accessibilità da un punto di vista di scaricamento del dato in conclusione eh vediamo anche qual è la distribuzione vedete che la componente regionale che è quella gialla è consistente è importante quindi eh la variabilità territoriale del monitoraggio mostra come in molti temi eh l'area le le i dataset regionali hanno un'incidenza importante e quindi è importante che le eh amministrazioni locali facciano il loro contributo e su quello sicuramente lavoreremo per migliorare eh il monitoraggio e comunque in conclusione possiamo dire che per quest'anno è sicuramente migliorato decisamente rispetto agli anni precedenti eh già da 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 questo mese siamo a lavoro perché eh per il monigioraggio del 2022 sarà a dicembre 2022 queste performance eh si raddoppi ancora e quindi si arrivi a dei livelli molto alti eh chiudendo e riprendendo un po' quella quella slide di 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 come sono no distribuita l'Italia tra beginner fast track al momento siamo siamo nella zona di di quelli che sono i follower cioè di quelli che in qualche modo stanno lavorando non sono il fanalino non siamo più il fanalino di coda ma siamo nella parte bassa eh l'idea è di arrivare a essere anche in questo fast track e quindi comunque importanti eh produttori eh di dati territoriali e comunque di dati territoriali accessibili eh a livello europeo eh quindi superando il 36 il 37 per cento che è più o meno la percentuale media in Europa eh per il monitoraggio di Inspire al momento e con questo ho concluso e ringrazio tutti benissimo grazie grazie Carlo perfettamente in linea con i tempi prestabiliti ehm ora saliamo di livello e andiamo a vedere un po' il monitoraggio che abbiamo realizzato con con i colleghi con Gabriele e Francesco sui eh monitoraggio dei dati aperti nell'ambito delle attività del piano triennale quindi a te la parola Gabriele vedi un po' tu come gestire un po' lo scambio con Francesco che ci presenta direttamente i dati grazie a te ciao grazie allora il piano triennale entriamo subito nel merito prevedeva degli obiettivi e dei risultati attesi molto specifici sul tema dei dati così come sugli altri tematiche di cui naturalmente ben noto diciamo in questo caso per quanto riguarda il nostro ambito di interesse erano previsti obiettivi e risultati per quanto riguarda appunto i dati aperti di tipo dinamico i dataset disponibili attraverso i servizi di dati territoriali secondo la direttiva Inspire poi c'erano i basi c'era azione perché riguarda un po' i basi dati di interesse nazionale che espongono i PI ma questo diciamo noi qua vogliamo mettere un po' alla luce quelli che sono i risultati monitorabili attraverso i cataloghi nazionali dati COVID e geodati COVID questo invece insomma a livello di attività sui dati sulle basi dati di interesse nazionale che espongono i PI rientra più nell'applicazione delle linee guida sull'interoperabilità e nelle attività che si stanno svolgendo a livello di ripartimento per quanto riguarda appunto la piattaforma digitale nazionale dati ho altri obiettivi appunto previsti altri obiettivi risultati attesi previsti nel piano terminale riguardanti le nostre attività riguardanti ovvero le attività sui dati monitorabili attraverso i due cataloghi nazionali appunto sono l'apertura dell'aumento di dataset con metadati di qualità conformi agli standard europei l'aumento di dataset di tipo aperto resi disponibili dalle amministrazioni l'aumento di dataset di tipo aperto che adottano la licenza SisiBare 4.0 ora quali sono un po' dico brevemente io i risultati riguardanti i dati territoriali di cui Antonio Rotundo si occupa molto più da vicino e poi dopo Piero Palicelli vi dirà un po' invece i risultati riguardanti i dati open data che in qualche modo fanno capo al catalogo dei dati COVID allora in questo caso per quanto riguarda i dati territoriali abbiamo un obiettivo una baseline che partiva appunto la vedete evidenziata sulla destra da 858 set di informazioni resi disponibili attraverso i servizi secondo i principi della direttiva InSpire quindi servizi di view o di download che vedete poi sulla sinistra naturalmente poi c'è il caso in cui un dataset è reso disponibile sia attraverso servizi di view che di download in questo caso si conta naturalmente una volta sola e non due volte quindi diciamo a partire da una baseline di 858 dataset con servizi fruibili e avendo un obiettivo di mille per il 2021 abbiamo raggiunto e leggermente superato questa informazione questo risultato poi per quanto riguarda invece l'altro elemento di valutazione riguardante appunto i dati territoriali e quindi il catalogo nazionale il repertorio nazionale di dati territoriali che risponde al dominio geodati.gov.it appunto l'aumento di dataset con metà dati di qualità conformi degli standard di riferimento europei e nazionali anche qui partiamo da una baseline del 2020 di 10.426 dataset e si prevedeva un target per il 2021 un aumento del 20% anche in questo caso possiamo valutare il punto di partenza e l'obiettivo che superato di una percentuale di circa il 40% che ci avvicina addirittura al target per il prossimo anno volevo dire a proposito dei dati territoriali prima di passare poi diciamo a Piero per quanto riguarda le attività di dati di covid che avevo visto alcune domande in chat è bene ricordare i dati territoriali vengono monitorati vengono documentati nel catalogo in base a una direttiva ben precisa che non riguarda solo i dati territoriali aperti ma riguarda tutti i dati territoriali ed è un obbligo ben preciso delle amministrazioni le regioni le amministrazioni che producono dati territoriali sono tenute a documentare questi dati nel repertorio indipendentemente dal fatto che i fissi siano aperti o meno naturalmente quando sono dati aperti e quindi accompagnati con una licenza aperta come abbiamo già detto in tante occasioni ma lo ribadisco velocemente noi attraverso l'applicazione dello standard europeo GEO di Cattapì li rendiamo disponibili e fruibili anche attraverso il catalogo dei dati aperti da Ticovit quindi questa è un'operazione completamente trasparente poi c'è un altro elemento di particolare importanza da tenere conto nel catalogo razionale dei dati territoriali oltre ai dati di interesse della direttiva Inspire che risponde degli obblighi ben precisi ci sono anche i dati di interesse delle normative nazionali sia del CAD che di altre normative che in base al quale viene previsto che sul repertorio nazionale dei dati territoriali vengono documentati tutta una serie di dati di interesse generale oltre quelli naturalmente che vengono previsti dalla direttiva Inspire naturalmente il monitoraggio Inspire si focalizza solo sui dati relativi agli annex della direttiva Inspire quindi quelli che obbligatoriamente dobbiamo dare in quella direzione e quelli che ci ha illustrato poco anzi Carlo nella sua presentazione il monitoraggio nazionale invece fa capo a tutti i dati presenti nel repertorio quindi non solo quelli di riferimento per la direttiva Inspire ma anche agli altri dati che sono di interesse solamente nazionale bene io avrei terminato per questa parte della direttiva di attività territoriale qua ci sono una lista di azioni che nel piano triennale sono indicate come azioni che devono fare le pubbliche amministrazioni e che abbiamo avviato insieme a loro tutta una serie di attività che ci hanno portato ci hanno indirizzato ad avere dei risultati positivi nelle varie situazioni sia per i dati aperti che per i dati territoriali e ci mettono in una posizione abbastanza diciamo utile per poter dire che abbiamo imboccato una strada corretta che è quella che comunque prima o poi ci porta diciamo ad un arrivo ben qualificato sarebbe stato diciamo chiaramente problematico aver imboccato una strada che non porta da nessuna parte invece i risultati ci danno un'indicazione che la strada presa è positiva e naturalmente possiamo proseguire questa attività volta al miglioramento delle informazioni che sono presenti nei cataloghi che è quello che è il nostro ruolo io passerei a Piero sì grazie per dire appunto avere le indicazioni riguardate i dati covid dove qua oltre al monitoraggio abbiamo anche delle novità che sono state messe a punto in questo ultimo periodo e di cui ci parlerà Piero grazie sarò velocissimo non vi ruvo tempo 9 minuti ce la farò allora abbiamo messo su una metodologia più che un cruscotto semplicemente di monitoraggio una metodologia di rendere tutto trasparente ogni settimana mediamente aggiorniamo i dati e diamo degli strumenti agli sviluppatori e alle pubbliche amministrazioni locali per poter autovalutarsi perché ricordiamo che dati.gov è il catalogo nazionale dei dati aperti che è la somma delle pubbliche amministrazioni per cui potete già andare da oggi in realtà alcuni giorni sul sito dati.gov.it e trovate già delle nuove sezioni la sezione monitoraggio nel menu monitoraggio dove avete il monitoraggio dinamico e la sezione sviluppatori dove ci sono le FAQ e il validatore validatore semantico il validatore semantico è un po' la novità la novità che permette alle pubbliche amministrazioni di poter applaudare ma anche al cittadino di poter applaudare il file cosiddetto end point delle pubbliche amministrazioni dove c'è l'elenco di tutti i propri dataset e controllare la propria conformità rispetto a quello che è il profilo di metadatazione di Cattapiti quindi che succede che faccio un esempio questo è un link per esempio del comune di Matera dati.comune.matera.it slash catalog.rdf io vado sul sito del validatore clicco scegli file e faccio l'upload del file il validatore mi restituisce alcuni warning oppure alcuni i warning sono in arancione gli errori sono in rosso quindi in warning arancioni in questo caso si riferisce a delle classi o delle proprietà che secondo il profilo di Cattapiti sono opzionali o raccomandate mentre gli errori sono quelle che si riferiscono a delle classi obbligatorie o a delle proprietà obbligatorie per cui in questo caso il sottotema il sottotema è il dct subject è il sottotema del tema quindi che so trasporti e poi avete trasporti terrestri eccetera 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 in questo caso specifico mancano i sottotemi proprio come valore questo permette di autovalutare la qualità dei propri dataset per ogni amministrazione ricordiamo velocemente che il profilo di meditatazione di Cattapiti dove avete un elenco su questo sito che avete sotto il link e la stessa slide che abbiamo fatto ad ottobre è composto vari oggetti varie classi la classe del catalogo del dataset della distribuzione varie proprietà che sono in parte obbligatorie in parte raccomandate e in parte opzionali per ciascuno di queste tre classi come si vede visivamente anche la qualità dei propri metadati basta andare a vedere o sul portale della vostra amministrazione o su dati.gov se mancano dei campi nella visualizzazione dei dataset quindi per esempio in questo caso a destra trovate molte not available ci può stare però alcuni di quei campi invece sono obbligatori tipo la frequenza è un campo obbligatorio e NA not available sulla frequenza è un errore vuol dire che quel profilo in quel dataset in particolare non è qualitativamente all'avanguardia questo è lo stato dell'arte delle regioni a ottobre non so se vi ricordate ha creato un po' di polemica questa slide non sono il totale dei dataset qua stiamo parlando degli enti regione perché? perché voi avete come sapete un diverso diversa politica da parte delle regioni alcune regioni sono degli enti federatori Toscana Mila Romagna la provincia autonoma di Trento la Lombardia il Veneto quindi all'interno del metacatalogo regionale avete anche il metacatalogo comunale eccetera eccetera in altri casi invece si è scelto di andare in maniera separata la Sicilia ha oggi 166 dataset il comune di Palermo nel 2004 la novità rispetto a ottobre diamo il benvenuto alla regione Puglia che ha aggiornato il proprio metacatalogo secondo lo standard di Catapiti e quindi abbiamo potuto importare arvestare i loro dati arriviamo un po' agli obiettivi e al monitoraggio come avete sentito prima da dottor Ciasullo i nostri obiettivi sono molto specifici sono di qualità e di quantità di qualità perché parliamo di numeriche relative solo esclusivamente ai dataset che però sono conformi allo standard di Catapiti quindi non a tutti i dataset tutti i dataset sono 51.000 su dati.gov e quelli conformi sono una parte beh avevamo degli obiettivi allora avevamo degli obiettivi che sono divisi appunto R1B R2A R2B R2B R2.3B che cosa succede? che la baseline è stata fatta anno per anno e quindi anno per anno poi viene ritarata rispetto al piano triennale della pubblica amministrazione quindi adesso vi farò vedere dei risultati che chiaramente sono molto rusundieri e mi complimento con tutti quanti voi ma verranno ritarati ogni anno cioè ogni anno poi vengono riaggiornati rispetto alla capacità del sistema Italia di performare o non performare in particolare ce ne sono già due che sono stati introdotti che sono quelle un po' più particolari il primo è proprio la definizione dei dati dinamici poi ne parliamo e quindi la capacità di rilasciare dei dati dinamici secondo la direttiva nuova 1024 del 2019 e l'altra è il fatto che i dataset devono avere una licenza unica nazionale che come Agile abbiamo individuato nella CC BY 4.0 la novità qual è che finalmente abbiamo un sistema aperto a tutti dove tutti potete monitorare quello che sono gli obiettivi di avanzamenti perché questi quattro obiettivi di dati.gov di piano triennale e ST possono essere analizzati anche da voi quindi andando sul sito dati.gov non solo vedete il grafico che vi dà l'avanzamento ma potete filtrare e fare delle vostre query per cui innanzitutto complimenti al sistema Italia che ha raggiunto brillantemente l'obiettivo nel 2021 su tutte e quattro gli assi alcuni li abbiamo sforati particolarmente l'obiettivo 2.2a era la qualità dei metadati ci eravamo dati un obiettivo ve lo rileggo di un aumento del 20% dei 17.003 e siamo invece il sotto vedete la numerica a 41.000 dataset perché? perché abbiamo fatto un'opera di accompagnamento con alcune regioni e alcuni enti che forniscono tantissimi dati facendo un'operazione proprio di capacity building di analisi del vostro portale Open Data quindi c'è stato un cambio netto in alcuni portali locali che ovviamente hanno impattato sul portale nazionale per cui innanzitutto ringrazio chi ci ha permesso di sviluppare il validatore semantico perché abbiamo riutilizzato le query semantiche fatte da esperti dei dati semantici quindi permettetemi personalmente di ringraziare Giorgio Allodi ma in questo caso ringrazio tutte le pubbliche amministrazioni che hanno lavorato insieme a noi nel cercare di migliorare il sistema paese che sono il comune di Milano Genova Palermo Matera Crespiano Bologna chi deve ancora entrare come comune di Messina la protezione civile regione Puglia la regione Sicilia alcune regioni che stanno lavorando all'acremente per aggiustare i propri dati che sono Emilia Romagna e il Veneto non posso non citare la provincia autonoma di Trento che è la prima che ha provato proprio tutti gli esperimenti passatemi il termine per pecciare per aggiustare in maniera massiva questi dataset poi MIVAT ANAC e ne approfitto per rispondere anche a qualche domanda che è emersa noi ogni settimana nella sezione monitoraggio più o meno facciamo vedere queste quattro macrocategorie che sono le macrocategorie che ci danno il polso della qualità di quello che c'è dentro dati.gov come vedete sulle licenze non specificate i formati sconosciuti c'è stato un dimezzamento degli errori della qualità dei metadati questo è grazie al lavoro delle persone che stanno nelle amministrazioni locali che hanno lavorato nel pecciare così è il brutto termine i propri metacataloghi questa cosa è avvenuta in maniera particolare anche con Antonio Rotundo e con il geoportale dei dati appunto territoriali i dati territoriali sono più di 20.000 di cui di quelli hanno una licenza aperta e un formato aperto per cui possono entrare in automatico in dati go ma portano dentro inevitabilmente portano dentro inevitabilmente delle imperfezioni perché lo standard di SPI è diverso lo standard di Caterpity per cui per esempio la licenza non è codificata in maniera univoca beh il lavoro che sono fatto è stato importante vedete il 14.11 5 giorni fa 6 giorni fa erano 3.300 i dataset con una licenza non coerente licenza sconosciuta oggi ne avete 1.700 parliamo di 1.700 dataset su 51.000 quindi comunque stiamo parlando di valori percentuali bassissimi però intanto stiamo lavorando in maniera puntuale accompagnando le singole amministrazioni ultimo argomento le FAQ per aiutare in maniera massiva tutti coloro che hanno necessità di autovalutarsi abbiamo rilasciato delle FAQ queste 4 queste 5 FAQ introducono anche l'ultima novità dei dati dinamici provengono dalle domande che ci avete posto nel precedente webinar e nel webinar di oggi immagino aggiungeremo altre FAQ ma in generale sono delle FAQ molto operative per gli sviluppatori infatti li trovate nella sezione sviluppatori che permettono di autovalutare e migliorare il proprio metacatalogo c'è un focus su SICAN che è lo standard però non è solo su SICAN vedete degli esempi sulla mappatura errata dei formati eccetera eccetera e per quanto riguarda l'ultima la nostra amministrazione rilascia data set da sensori con aggiornamenti continui come possiamo etichettarli per renderli fruibili come dati dinamici e quindi essere correttamente anche monitorati ai fini del monitoraggio beh noi abbiamo interpretato in questa maniera la direttiva PSI nel senso che la definizione della direttiva PSI prevede che i dati generati solitamente da sensori vanno considerati dati dinamici quindi sensori possono essere il traffico possono essere i trasporti l'ambiente eccetera ma non necessariamente beh come facciamo a monitorarli ci diamo una convenzione questa cosa entrerà pure nelle linee guida nuove quando verranno aggiornate le convenzioni sono che questi dati devono essere come dice la direttiva aggiornati giornalmente o addirittura in tempo reale quindi o devono avere la frequenza continua o devono avere la frequenza giornaliera nel menu a tendina quando noi scegliamo la frequenza che è un campo obbligatorio inoltre vi chiediamo di usare questa convenzione quindi mettere come tag dati meno dinamici se voi mettete dati meno dinamici nei tag tutti i cittadini c'è scritto nella fac possono cliccare e avere un filtro poter controllare sia a livello di sviluppatori sia a livello sul sito dati.gov tutto e così tutti quanti riescono a monitorare in ottica trasparente tutto ciò che succede a livello italiano grazie 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 francesco non so se gabriele vuoi intervenire in chiusura della della di questo slot di presentazioni altrimenti io giusto un saluto grazie a tutti vedo che ci sono ancora circa 400 partecipanti quindi sono rimaste tantissime persone fino alla fine questo è molto importante alle domande magari le raccogliamo e cercheremo di rispondere magari pubblicandole su eventi PA insieme al materiale relativa alla giornata di oggi sono stati tutti temi molto importanti ma sono stati comunque diciamo il frutto a parte di grazie chiaramente tutti i relatori ma sono stati il frutto come è stato detto in più circostanze il frutto di un'attività svolta dalle amministrazioni con le amministrazioni che ci ha portato insomma ad attuare a dare come dire forza alla nostra polisi di inclusione e non di esclusione quindi insomma diciamo questo vuole essere diciamo un messaggio che per continuare su questo tipo di percorso grazie e alla prossima appuntamento giovedì prossimo se ricordo bene esatto grazie Gabriele ricordo infatti a tutti che il giovedì prossimo ci rivediamo per l'ultimo webinar sulle infrastrutture dei dati territoriali regionali quindi grazie a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti